Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Storia di una città, il format di Pisa in TV nato per raccontarvi le bellezze e le curiosità del territorio pisano. L'estate è ormai finita, ma perché non rendere omaggio ad una delle principali località balneari di Pisa, un luogo magico che conserva la sua unicità e bellezza anche durante le stagioni meno calde. Percorrendo il viale d'annunzio da Pisa a sud della foce dell'Arno verso il mare si arriva a Marina di Pisa, una piccola ridente località nata come centro balneare nella seconda metà dell'Ottocento, ma già da molto tempo prima abitata da pescatori. Marina di Pisa si presenta incorniciata in uno scenario suggestivo, da un lato la lunga curva dell'arenile della tenuta di San Rossore e il profilo delle Alpi Apoane e sullo sfondo la linea dell'orizzonte che sembra tuffarsi nel mare. Da anni e anni chi frequenta questa parte del litorale è abituato a vedere Marina di Pisa con il suo caratteristico paesaggio, delineato da scogli artificiali che fanno da frangionde contro l'impeto dei frutti del mare e dei forti venti di Libeccio, ma sono in pochi forse a sapere che questo piccolo paese simbolo per eccellenza della calda stagione vanta una storia incredibile. Incredibile davvero, la storia di Marina di Pisa infatti già ribattezzata nel corso del XVI secolo paesi di Boccadarno inizia da uno sfratto. Non crediamo possa esistere termine più adatto per definire ciò che accadde. Il novello re dell'Italia unificata Vittorio Emanuele II volle appropriarsi di questa porzione di territorio, in particolare della tenuta di San Rossore, impedendo così l'accesso alla nota spiaggia del Gombo alla cittadinanza pisana. E perché parliamo di sfratto? A subire la decisione reale fu purtroppo la famiglia Ceccherini, commercianti e possidenti originari di San Giuliano Terme, che sulla riva nord dell'Arno, all'interno di San Rossore, avevano aperto i primi stabilimenti balneari. E' proprio grazie alla famiglia Ceccherini che la zona aveva iniziato a guadagnarsi lo status di meta turistica, turismo inoltre incentivato dalla credenza scientifica dell'epoca, per cui i bagni di mare facevano da terapia preventiva per diverse malattie. La scelta della famiglia dei Savoia andò contro quella dei suoi predecessori, i Lorena, che avevano infatti costruito la via del Gombo proprio per consentire al popolo di poter allietare le loro giornate di festa con una scampagnata in riva al mare. Non solo, con il tempo la spiaggia aveva iniziato ad essere frequentata anche da celebrità dell'epoca, che scelsero la costa pisana per le loro vacanze. Uno tra questi, l'illustre compositore Franz Lest. Vittorio Emanuele II, quindi una volta insidiatosi come il regnante d'Italia, lasciò intendere di non apprezzare quel traffico popolare sui suoi possedimenti e nel 1865 riuscì a far sloggiare la famiglia Ceccherini da San Rossore, in cambio di un'ingente somma di denaro e una porzione di territorio sulla sponda opposta dell'Arno. Quello che vediamo adesso è il Viale d'Annunzio, la strada principale che porta dalla città a Marina di Pisa. Una volta chiamata Via dell'Argine, questa nuova arteria completata nel 1878, già all'epoca permetteva alla cittadinanza pisana di recarsi al mare in carrozza. Ma come per farsi perdonare dello sgarbo arrecato ai cittadini poco tempo prima, Vittorio Emanuele II decise di mettere a disposizione un piccolo battello a vapore per permettere ai propri sudditi di raggiungere la pace dell'Arno durante i mesi estivi. Non solo, un altro fondamentale mezzo di trasporto per le uscite fuori porta d'estate fece la sua comparsa nel 1892. Si trattava del popolare e cosiddetto Trammino, popolare perché ricordato ancora oggi tra le persone nate tra gli anni 40 e 50. Una locomotiva a vapore le quali quattro corse duravano all'incirca 45 minuti ciascuna. Come già anticipato, Marina di Pisa, oltre che da semplici cittadini pisani, iniziò ad essere frequentata anche da personaggi di un certo prestigio. Tra tutti spicca il poeta Gabriele D'Annunzio, assiduo frequentatore della zona che tra l'altro lo ispirò nella composizione di alcuni versi immortali contenuti nella raccolta Alcione. Bocca di donna mai mi fu di tanta suavità nell'amorosa via, se non la tua, se non la tua, presente, come la bocca pallida e silente del fiumicel che nasce in Falterona. Qual donna s'abbandona, se non tu, se non tu, sì dolcemente come questa placata correntia, ella non canta, eppur fluisce quasi melodia, all'amarezza. Qualsia la sua bellezza, io non so dire, come colui che ode suoni dormendo e virtù di ignote, entrano nel suo dormire. Le saltano all'incontro i verdi flutti, schiumanti di baldanza, con la grazia dei giovani animali. In catena di putti non mise tanta gioia Donatello, fervendo il marmo sotto lo scalpello, quando ornava le bianche cattedrali. Il vero merito della presenza stabile dal 1898 di Gabriele D'Annunzio sulla costa pisana va al suo grande e tormentato amore, la divina Eleonora Dussel. Quasi venti anni prima, infatti, l'attrice aveva conosciuto la neonata Marina di Pisa in un suo momento di profondo sconforto e dolore personale. La perdita di un figlio, avuto da una precedente relazione, è seppellito in terra pisana, per la precisione a San Piero a Grado. Ciò nonostante qualche anno dopo ardente di amore per il bate, la Duse stipulò un contratto di affitto per il palazzo della Dogana Vecchia con gli eredi della famiglia Ceccherini. Se però parliamo del palazzo della Dogana Vecchia, non possiamo non raccontarvi un'interessante vicenda legata alla storia di Marina di Pisa, partendo addirittura dagli Stati Uniti. Nel 1903, negli Stati Uniti, i fratelli Wright effettuarono il primo volo di un essere umano a bordo di un macchinario spinto da un motore a scoppio. Un evento straordinario. Poco più di un decennio dopo, nel 1917, su una porzione di terreno proprio intorno al palazzo della Dogana Vecchia, si installò un piccolo cantiere di proprietà dell'ingegnere livornese Gallinari. Nacque così la prima fabbrica di idrovolanti in Italia, che segnò per sempre la vita, l'immaginazione e anche il panorama di Marina di Pisa e dei suoi abitanti. Nacque così la prima fabbrica di Pisa e dei suoi abitanti. La posizione della fabbrica era indubbiamente strategica. Trovandosi infatti vicino alla voce dell'Arno, permetteva il collaudo, la partenza e l'atterraggio dei ritrovolanti. Certo, la fabbrica e tutto ciò che essa comportava non si sposava bene con l'eleganza delle palazzine Liberty e degli chalet che caratterizzavano Marina di Pisa. Ma ormai, a quel tempo, la produzione di questi velivoli aveva raggiunto un'enorme importanza anche a livello europeo. Col tempo la neonata azienda riuscì ad imporsi come leader per la produzione di idrovolanti, sia ad uso militare che civile. Pensate che, ad esempio, nel 1925 l'esploratore Rold Amundsen partì per la sua famosa spedizione al Polo Nord proprio a bordo di due velivoli sfornati dall'impianto di Marina di Pisa. Ovviamente anche l'attenzione del regime fascista fu conquistata da questo centro produttivo necessario per sviluppare la sua idea di un corpo aeronautico di primo livello. Ed è proprio con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale che Marina di Pisa divenne un centro produttivo sempre più rilevante per il supporto dell'esercito italiano. Anche per questo la zona fu pesantemente bombardata dagli alleati durante la liberazione del territorio pisano dall'occupazione nazista nell'agosto del 44. Marina di Pisa, questa splendida cittadina balneare, in quel momento storico fu obbligata a cambiare le proprie sembianze, dal luogo di villeggiatura a centro di produzione industriale. La fabbrica, infatti, nel dopoguerra continuò a funzionare, rilevata dalla Fiat, che in essa impiantò la produzione di alcuni pezzi necessari a realizzare i modelli storici della casa automobilistica torinese negli anni 50 e 60. Marina di Pisa, quindi, non è solamente una tranquilla località balneare, ma un luogo che custodisce parte della nostra storia. A testimonianza di questo vi suggeriamo di visionare alcuni film e leggere alcuni libri in cui questa cittadina fa da scenario. Tra i film da consigliarvi abbiamo sicuramente Senza pietà di Alberto Lattuada del 1948, tutti a casa di Luigi Comencini del 1960 e lo chiamavano Bulldozer e Bomber, rispettivamente del 1978 e del 1982, entrambi diretti da Michele Lupo. Tra i romanzi e racconti ambientati a Marina di Pisa, invece, non possiamo non suggerire La Tentazione di Gabriele D'Annunzio e due libri di Marco Malvaldi, scrittore pisano e padre della serie di romanzi da cui è tratta la celebre fiction i delitti del bar Lume, la briscola in cinque e il gioco delle tre carte. Termina qua la puntata di questa sera di Storie di una città. Come ogni volta abbiamo voluto raccontarvi qualche aneddoto e mostrarvi qualche piccola meraviglia nel nostro fantastico territorio. Vi invitiamo quindi a seguirci ancora qua, sotto il Gran Ducato e sul nostro canale YouTube, per conoscere altre storie ricche di curiosità e meraviglie da farvi scoprire. Pisa in TV vi augura una buona serata. Grazie a tutti!